Secondo voi, quali sono i politici che prendono più soldi in tutta Europa? La risposta è facile, oltre che scandalosamente scontata, come potrete vedere nella graduatoria. Stipendi parlamentari alti non sono un automaticamente un indice di spreco per il paese, ma sono un indicatore in quella direzione. Non è importante soltanto quanto guadagnano i politici, ma anche il rapporto tra i loro stipendi e gli stipendi medi dei loro concittadini. Per esempio, gli stipendi dei parlamentari lussemburghesi, apparentemente alti, sono poco più alti dello stipendio del cittadino medio in Lussemburgo. Ma, se riuscite a trattenere il vomito, potrete leggere nella classifica seguente, ricavata dagli ultimi dati pubblicati da The Journal, tutti i dettagli a riguardo. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!